Si intitola Serravalle perché è ambientato proprio lì, a Serravalle di Chienti, il nuovo libro di Marco De Biagi. Di radici marchigiane, lo scrittore ha voluto omaggiare alla terra che sente sua. Accanto al nome del paese c'è un'indicazione su ciò che i lettori si trovano fra le mani, dove i cattivi pensieri possono uccidere. Il romanzo si muove infatti fra l'horror, il giallo e l'urban fantasy, dove i luoghi dell'entroterra marchigiano sono i veri protagonisti. La storia è ambientata qui con personaggi reali che hanno firmato la liberatoria per apparire, ma l'antagonista, il male nel romanzo, è una creatura fantastica. Non solo l'antagonista, perché ci sono diverse scene magiche tra Colfiorito, Serravalle di Chienti e i Monti Sibillini, a Castelluccio di Norcia in particolare, dove appunto la magia viene fuori. Viene fuori quel brivido, quel pizzico di avventura, quel magico che penso che ognuno di noi vorrebbe sperimentare nella sua quotidianità. I personaggi del libro sono solo in parte di fantasia. La gran parte di essi vive proprio nel piccolo borgo di Serravalle di Chienti. Alcuni hanno un'attività commerciale nel posto. L'obiettivo del romanzo è quello di rilanciare un territorio duramente colpito dal sisma. Proprio ai due terremoti, quello del 1997 e del 2016, Marco ha dedicato alcuni passaggi centrali della sua opera. All'interno di quella che è la storia, il terremoto funge anche da catalizzatore dell'elemento oscuro, diciamo così, del male. Però vuole anche essere un contributo proprio geografico e storico. Ha la voglia, la volontà di vedere questi posti rinascere, di vedere questi posti prendere vita dopo il 2016, il 1997, questi terremoti che ci hanno devastato. Abbiamo cercato di valorizzare i prodotti del nostro territorio, il ciavuscolo, i legumi, il miele, salami. L'ho divorato il libro. C'è qualcuno che al paese ci tiene. E a proposito di sisma, il primo cittadino fa il punto su una ricostruzione che, sebbene sia partita, sembra ancora lontana, soprattutto sul versante pubblico. Con la pubblica purtroppo ancora abbiamo le scuole inagibili, la palazzina dell'asilo che è qua dietro inagibili, abbiamo sette chiese inagibili e ancora ce n'è di strada da fare. Si sta cercando un attimino di alleggerire un po' il carico dei vari tecnici, di sbrogliare qualche cavillo, qualche articolo, però il tempo inesorabilmente passa. Speriamo che non passi al punto che questi borghi si svuotino e queste strutture, quando verranno fatte, rimarranno vuote.